La prefettura di Nuoro in questi anni di grave crisi economica e sociale che ha colpito il territorio è stata spesso chiamata in causa per cercare di risolvere situazioni complicate. I cittadini disperati vedono nel prefetto il rappresentante dello Stato a cui presentare le proprie istanze e chiedere aiuto. Probabilmente aveva questo obiettivo l'uomo che stamattina ha manifestato il proprio disagio per la propria condizione economica e sociale. Non so se questa si possa considerare una manifestazione tesa a sensibilizzare le istituzioni sulle problematiche sociali e individuali. Certamente è un segno che bisogna accogliere perché l'attenzione sia massima. Anche se non lo vogliamo siamo obbligati perché la situazione attuale ce lo impone. Tutte le istituzioni sono su un fronte che non è un fronte opposto a quello dei cittadini ma è un fronte vicino ai cittadini di supporto alla situazione veramente critica che la società in questo momento sta attraversando. Le istituzioni devono essere in prima fila naturalmente per questo anche noi quando ci accorgiamo che ci sono situazioni che vanno affrontate sia a livello sociale per fronteggiare situazioni che investono tutta la società ma anche a livello individuale, singoli cittadini, eccetera. Cerchiamo naturalmente di fare tutto il possibile, ciò che è nelle nostre possibilità.